Bitcoin ha toccato i massimi di questo periodo, è iniziata una nuova fase discendente e da qui è meglio levare le tende e andar via, è l'argomento di questo video ed è quello che faremo oggi. Steremo a trattare tre punti fondamentali, andremo a capire se il mercato Bitcoin, Ethereum e Binance Coin hanno fatto i massimi, secondo punto per quanto tempo questa fase di ribasso potrà continuare e terzo punto quali sono i livelli di supporto che il mercato incontrerà in questa fase di ribasso e che andranno tenuti d'occhio perché potrebbero essere anche estremamente importanti come punti di acquisto per un posizionamento nuovo, per un'altra operazione di trading e per fare tanti dindini. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, iniziamo la settimana in grande slancio con l'analisi tecnica ciclica dei mercati finanziari, Mauro Caimi qui con voi, oggi è un video particolarmente importante perché il mercato dalla serata, da questa mattina, diciamo prestissimo e nelle ore mattutine, ha iniziato questa fase discendente, siamo in una fase ciclicamente di chiusura di un nuovo ciclo mensile. Ma ci sono delle eccezioni che dobbiamo andare a guardare in questo video per ottenere l'obiettivo che vi ho detto prima, cioè quello di comprendere se è il momento di levare le tende e andare via anche per chi è holder o comunque anche per chi sta facendo trading di breve periodo. Lo faremo come sempre sui grafici, ho già pronto qua davanti a me Binance, Bitcoin ed Ethereum che sono le tre coni che andremo a guardare perché hanno avuto anche degli atteggiamenti differenti. Prima di andare però sul grafico ragazzi vi chiedo un mi piace per questi video, se li trovate strautili mi raccomando commentate quello che pensate anche da un punto di vista di analisi tecnica, quali sono le vostre operazioni e soprattutto quali sono i vostri dubbi e le vostre paure. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, andiamo sui grafici. Bene ragazzi allora davanti al grafico Bitcoin, il re, come sempre. Cerchiamo di capire quindi come primo punto se ha fatto in massimi il mercato e sono giusti questi massimi e quanto potrà durare questa fase di ribasso. Per decidere se ha fatto in massimi andiamo a guardare immediatamente l'analisi di natura tecnica ragazzi. Allora livello di supporti, livello di resistenza, analisi tecnica. Allora l'analisi tecnica ci indica che questa fase, questo massimo raggiunto intorno ai 10.000-10.2002 vedete qui in questo momento ragazzi è un massimo accettabile per questa fase di rialzo. È sicuramente un massimo esteso ma non è così tanto esteso, cioè il mercato non è salito tantissimo. Questo lo possiamo vedere anche dall'RSI ragazzi che vi metto magari un po' più su per farvelo vedere. Vedete l'RSI sul grafico è sì in trend ascendente ma non è mai arrivato nella fase di ipercomprato. Questo significa che il mercato non ha avuto un trend molto pronunciato, ha avuto un bel trend, un bel trend forte ma non fortissimo tanto da andare in ipercomprato con la cosiddetta diciamo bolla. Questo è un bene e un male perché da un certo punto di vista è un bene ragazzi in quanto siamo nella prima parte dell'inizio di questo trend che al 99% corrisponde con il nuovo annuale di cui vi ho parlato diverse volte però all'inizio di questa fase avere un trend fortissimo non è buono. Quindi in questo momento io vedo positività da questo atteggiamento del mercato di non aver fatto un massimo estremamente elevato. Quindi sono contento di questa cosa. Per quanto riguarda i livelli di resistenza il livello di 10.000 dollari è sia un livello psicologico per il mercato che Bitcoin sappiamo bene essere estremamente riflessivo quindi è un mercato che risente molto degli aspetti psicologici e poi ragazzi è anche un po' vicino a questi livelli di massimo. Vedete questo livello di massimo raggiunto il 26 ottobre era 10.480 sui prezzi di Bitfinex quello che vediamo qui esattamente ragazzi. E questo è un massimo stra importante perché fa parte del ciclo precedente, l'ultimo ciclo ribassista che Bitcoin aveva fatto. Il superamento di questo livello di massimo per il mercato era un grande segnale rialzista. Il mercato ha deciso di prendere fiato una volta arrivato vicino questo livello che era esattamente un livello un po' importante sia quindi il livello del massimo del ciclo precedente sia perché eravamo vicini ai 10.000 che è una soglia psicologica estremamente rilevante. Quindi massimo fatto sicuramente sì per quella che è una fase di breve periodo ragazzi. Quale fase di breve periodo? Passiamo al secondo punto da annunciare in questo video e cioè quanto può durare ancora questa fase. E qui ci viene di aiuto l'analisi ciclica ragazzi. Una delle indicazioni che l'analisi ciclica ci sta dando in questo momento è che siamo nella fase finale di un ciclo mensile. Ora ragazzi quello che vedete qui, questo grafico ternario, non l'ho pubblicato su YouTube la scorsa settimana nell'analisi del lunedì. L'ho pubblicato nelle analisi dell'academy premium e ne abbiamo discusso con i vari trader advance che sono iscritti in academy. Perché questa secondo me ragazzi potrebbe essere una view che potremmo accettare. E cioè siamo nella fase conclusiva di questo ciclo. Vedete da 21 giorni che ha fatto la sua metà il 4 di febbraio ed è atteso in fase di chiusura intorno a venerdì prossimo. Questa settimana quindi dovrebbe essere una settimana di ribassi o comunque di mercato laterale ribassista. Cosa che io ritengo più probabile rispetto a un ribasso pronunciato. Certo ragazzi sapete che bitcoin o il mercato delle cripto in generale è molto volatile quindi non mi metto ad indicare insomma la forza o meno di un movimento perché sarebbe da folli. Però sicuramente un'aspettativa è che il mercato faccia questo tipo di trend e vada a chiudere questo ciclo all'intorno di questa data che è tra venerdì, da venerdì in poi ragazzi, giovedì venerdì in poi. Quindi dal 14 anche al 20 potrebbe fare un tentativo di fare un minimo. Vi spiegherò anche perché ho parlato anche del 20 perché se andiamo a guardare i grafici di Ethereum e Binance lo vedremo tra poco. Risulterà un po' chiaro come questa fase è un po' precoce relativamente alle altre altcoin. Mentre bitcoin la sta disegnando in maniera più pronunciata rispetto per esempio a Ethereum o ancora di più rispetto a Binance. Quali sono i livelli di supporto a questo punto dove può spingersi questa fase di ribasso? Abbiamo visto il massimo toccato, abbiamo visto la tempistica, andiamo ad analizzare quelli che sono i livelli di supporto per il mercato in questo momento. Il primo livello di supporto è dato dal massimo precedente raggiunto nelle giornate scorse, nelle scorse settimane. Cioè 9500, questo livello ragazzi è un livello di supporto del mercato. Ma il mercato l'ha già quasi toccato nelle giornate di oggi perché è andato giù vicino ai 9700. Quindi quasi vicino ai 9500. Ci siamo quasi. Potrebbe farlo magari a chiusura di questa giornata o anche domani. Ed ecco a questo punto che vi ho aggiornato tutti i livelli di supporto e di resistenza per quello che ci siamo detti in questo video. Quindi abbiamo in maniera chiara, lo facevo da un po' di tempo devo dire la verità, quindi abbiamo in maniera chiara supporto di breve 9500 ragazzi. Questo qui. E poi abbiamo un altro livello di supporto che è 9000 che è qui, qui sotto ragazzi. Potrebbe arrivarci? Secondo me no. Ve lo dico in maniera un po' chiara. È un po' difficile che il mercato arrivi a quei livelli. Però è anche vero ragazzi che non ci vuole molto perché 700 dollari per quanto riguarda bitcoin alla fine sono intorno a un 6%, un 5-6%. Potrebbe farli addirittura anche in una sola seduta e andare a fare una shadow. Fa il minimo, tocca questo supporto e va a riprendere un trend. Io non credo che questo trend di breve che abbiamo visto, medio-breve periodo, sia finito qui. Penso che il mercato ci dia ancora molto spazio nei prossimi mesi. Vedremo se è così. Mi piace molto questa idea che sia salito in maniera non consistente, quindi non estremamente forte, ve l'ho già detto prima. Per me i livelli di supporto 9500, tra 9000 e 9500, qui quest'area, sono dei livelli che dobbiamo tenere in considerazione anche per futuri acquisti del mercato. Allora andare a comprare in pullback se il mercato scende, sì o no ragazzi, un po' sì. Ve lo dico in maniera chiara, se siete già long, se state utilizzando una strategia di posizionamento. Chiaramente non sono consigli finanziari, inutile dirlo, disclaimer a tutto spiano, lo trovate nella descrizione del video, quindi non do consigli finanziari, è semplicemente la mia opinione ragazzi. Considerate che anche in questa fascia ci sarà anche il supporto relativo alla media mobile a 200 periodi, quindi questa è una buona area, tra 9000 e 9500 è una buona area. Il mercato ci arriverà, potrebbe dare anche una sorpresa del mercato, potrebbe anche non arrivarci mai ragazzi e questo lo andremo a trattare nei prossimi video. Se il mercato dovesse fare una inversione immediata farò un video anche dove vi farò vedere come è possibile magari utilizzare una strategia di break di una fase di bassista come questa e poter magari utilizzare un ingresso di trading long, quindi entrare in posizione a comprare bitcoin per un futuro rialzo, anche se non arriva ad un prezzo così basso. Allora ragazzi, in caso lo pubblicherò su un altro video di youtube, quindi iscrivetevi al canale. Passiamo alle altre altcoin, in primis Ethereum ragazzi, allora Ethereum intanto ha fatto un trend fortissimo, lo vediamo in maniera chiara dall'RSI che ha raggiunto livelli di ipercomprato giganteschi ragazzi, questo significa trend fortissimo per questa criptovaluta. Bene così, per quanto riguarda Ethereum che aveva sofferto non poco nell'ultima fase ribassista. Da un punto di vista, ancora una volta, di massimo fatto o meno per Ethereum, io direi questa fase ciclica Ethereum ha fatto il suo massimo. E lo vediamo subito ragazzi, perché proprio nelle scorsa settimana, mi pare ieri se non sbaglio, ho parlato con uno dei miei vari iscritti all'Academy Premium e mi parlava, perché loro sono già posizionati su Ethereum, stanno cavalcando questo trend, hanno fatto buoni profitti, mi parlava se quest'area potesse essere effettivamente un massimo meno. Io gli ho indicato l'area di importantissima resistenza di 225, che è questa ragazzi, anzi la scriviamo. Ecco scritta anche la resistenza in questo caso per quanto riguarda Ethereum, dopo il superamento del forte livello di resistenza 180, che adesso è diventato ovviamente un supporto ragazzi, dopo il superamento, Ethereum non ha avuto ostacoli, perché in effetti ha indicato una inversione di trend in breve ed è andato a finire dove ragazzi, guardate, un po' direttamente sul massimo del ciclo precedente, che era questo qui. Quindi ha bypassato questa fase in maniera abbastanza veloce, è andata sul massimo, che effettivamente è un massimo molto di rilievo. Però ancora una volta, questa fase di ribasso iniziata semplicemente oggi, quindi in questo momento un semplice ritracciamento, per quanto tempo potrà durare? Ora qui su Ethereum ragazzi io vi ho messo la view 2 relativamente al movimento ciclico dei mercati, quella che abbiamo visto su Bitcoin, la view 1, cioè quella corta, quella che indica una fase di ribasso veloce, che si riassorbe in maniera veloce, tra pochissimi giorni. Quella invece di Ethereum vi ho lasciato una view secondaria, che può indicare addirittura una prosecuzione di questa fase di ribasso e di ritracciamento, che potrebbe arrivare anche a fine mese di febbraio. Vi faccio capire un esempio, allora questa fase dovrebbe essere fatta così, poi magari un tentativo di fare un altro massimo, il mercato non ce la fa, inizia magari questa fase discendente che culmina magari in un minimo intorno ai 200 dollari, ho cancellato il disegno, ok? Più o meno una cosa del genere ragazzi, andando a impattare verso fine mese sul livello di supporto, che a questo punto posso indicarvi direttamente, essere intorno ai 200 dollari per quanto riguarda Ethereum ragazzi. Ripassiamo Binance, che nella giornata ragazzi di ieri ha fatto i numeri, ieri e l'altro ieri, guardate cosa ha fatto Binance, perché è andato a toccare ancora una volta ragazzi i massimi a 21008, questi qui ragazzi erano i massimi del ciclo precedente, lo vedete chiaramente, rotti questi massimi, Binance fa il botto e se ne va direttamente a questo nuovo livello di resistenza, che coincide con questa fascia qui, vedete ragazzi, la vecchia fase di trading range, addirittura di luglio 2019, quindi lontanissimo. Questo è un nuovo trend, un nuovo annuale anche per Binance, quasi sicuramente sì, vedremo quello che farà, ma secondo me potrà dare grandi soddisfazioni da certi punti di vista, è un buon momento per le cripto, in generale andiamo a vedere anche che l'RSI è in ipercomprato, quindi trend forte, anche per Binance, andiamo a capire. Abbiamo fatto i massimi, ancora non è chiaro questo ragazzi, perché addirittura Binance l'ha fatti nella giornata di oggi i massimi, quindi non ha indicato una fase di ribasso, quindi in questo momento il mercato resta totalmente rialzista, potrebbe andare ancora su, sì, potrebbe arrivare sui 28, quindi andare addirittura a toccare questa fascia di prezzo qui e inserirsi addirittura in questo punto qui, in questa fascia, che è la vecchia fascia di trading range. Può farlo tranquillamente, non dà segnali di voler fare un pullback, io credo che se Ethereum e Bitcoin continueranno questa fase leggermente ribassista, allora anche Binance potrà in effetti ragazzi andare a fare una fase di ripensamento, da un punto di vista tempistico, e quali sono i livelli di supporto. I livelli di supporto, il primo grande livello di supporto ragazzi è 22, che è qui, lo scriviamo ancora una volta. Mi piace farli insieme ragazzi questi disegni perché vi fa capire anche come lavoro, in generale come è il mio modus operandi, quindi è anche carino per questo motivo. Quindi 22, un supporto di breve, cancelliamo ancora questa fase intermedia, è un supporto estremamente importante, Binance potrebbe arrivarci secondo me solo se ragazzi la fase, quindi la di chiusura ciclica mensile verrà rispettata intorno ancora una volta a fine mese di febbraio. Io qui mi ho messo una scadenza intorno al 22, potrebbe essere il 21-22 di febbraio la giornata ancora una volta di chiusura di questo ciclo. Fa una cosa del genere, non so ragazzi, è un po' pronunciato come ribasto, il mercato può dare grandi soddisfazioni magari se il mercato arriva a questo livello di supporto, perché no, un bel tentativo di ingresso sarebbe valutabile, chiaramente sempre non consigli finanziari, però questa è una fase di pullback che sarebbe di grande valutazione per un ingresso long di medio-lungo periodo. Bene ragazzi, allora abbiamo risposto all'acquisito principale, conviene uscire dal mercato se siete trader di breve periodo, dovete prendere profitto su Bitcoin, su Binance New ancora non è detto, su Ethereum lo stesso ancora una volta bisogna prendere profitto. Se siete trader di breve, di breve intendo che uscite oggi e rientrate dopo domani ragazzi, domani, quando c'è il prossimo segnale, quindi fate trading vero. Se siete holder sul mercato, questa fase è un semplice respiro in questo momento, un po' più pronunciata lì di basso di Bitcoin rispetto a queste altcoin, la Dominance infatti è a un punto chiave. Nei prossimi video ragazzi volevo parlare proprio della Dominance, perché secondo me il grafico della Dominance può dare grandi soddisfazioni in questa fase, avevamo pronunciato una fase di difficoltà di Bitcoin e così è stato, non tutte le altcoin però stanno dando grandi soddisfazioni, solo le migliori, tra virgolette. Per oggi è tutto, vi auguro un buon inizio settimana, vedremo quello che succederà in questi prossimi giorni, in settimana sarò a Milano per una serie di incontri e vi posterò i miei video da lì ragazzi, quindi come sempre ciao a tutti e ci vediamo nel prossimo video.